Deve fare attenzione ai movimenti di Marcello che va alle spalle costantemente di Cajon quando il Real ha in possesso palla. 1-2 in segno, cerca il pallonetto! Rete! Rete incredibile! Capolavoro! Capolavoro al Bernabeu! Napoli in vantaggio! Non era partito bene ma qui ha fatto una rete straordinaria guardando il pallonio è riuscito a vedere anche la posizione di Cajon Navas fuori dall'area piccola, stava rientrando il portiere del Costa Rica.